Il territorio provinciale come il territorio regionale è oggetto di una mancata programmazione che ha portato ad una carenza di medici in questi anni. Lei sa che per dare una risposta alle guardie mediche, ai medici di medicina generale occorre programmare dei corsi che formano un numero adeguato. Noi stiamo facendo il possibile e l'impossibile per adeguare con l'azione della programmazione il numero attuale e futuro dei medici di medicina generale e quindi che potranno essere utilizzati anche come guardie medici. Pensi che in due anni abbiamo sostenuto praticamente 190 borse per i medici di medicina generale. In due anni il numero sostenuto da noi è superiore al numero sostenuto nei cinque anni che ci hanno preceduto. Però è chiaro che questi medici che noi andiamo a formare oggi possono essere utilizzati almeno dopo un anno di corso. Quindi per capirci i 60 medici che hanno partecipato alle borse lo scorso anno potranno essere utilizzati nel prossimo autunno. Le 110 borse che andiamo a finanziare quest'anno sperando che con il cambio dei criteri ci sia una decisione totale potranno essere utilizzate il prossimo anno. Quindi noi con le aziende Asur attualmente in operativa e con tutte le nostre forze stiamo cercando di reperire personale. Ma è il problema che oggi riguarda le marche e riguarda tutta l'Italia. Il tema è che il governo con la fine del mese di giugno ha abolito il servizio delle USCA, le unità operative di continuità assistenziale che avevano garantito la visita a domicilio durante i periodi Covid. Nella conferenza delle regioni, non solo le marche, basta che si fa un giro su Youtube e si vede le proteste di altri presidenti delle regioni, abbiamo chiesto al governo di garantire questo tipo di servizio. In attesa di sapere quali sono le decisioni da parte del governo, noi come regione autonomamente abbiamo messo in piedi questo servizio UCA che però non trova l'assenso dei medici perché prima per lo stesso servizio percepivano 40 euro all'ora di trattamento. Invece con il trattamento previsto dal contratto per i servizi territoriali delle regioni, il trattamento è di 23 euro. Quindi chiaramente questo è un ostacolo insuperabile da parte nostra e quindi anche in questa sede approvvitto della vostra cortesia per chiedere al governo di valutare il ripristino delle USCA, tanto più per il fatto che si ritiene che il picco del Covid possa arrivare nei prossimi mesi.